Siamo qui in compagnia di Tania Boianelli qui questa serata splendida qui in Lungopo, siamo al Cogins Tania vuoi dirci quali sono? So che ci sono degli ospiti meravigliosi stasera ma voglio che lo dici tu Effettivamente abbiamo degli ospiti eccezionali perché abbiamo voluto allestire un percorso del gusto veramente particolare Dai, però qualche nome devi farlo Lo faccio volentieri anche perché sono tutti veramente meritevoli di citazione Abbiamo a cominciare da Valverde che produce polli di grandissima qualità Abbiamo la pasta fresca che questa sera ci ha deliziati con degli agnolotti secondo antica ricetta Avremo più tardi dei dolci di altissima qualità pasticcera fatti con ricette di una volta E anche con gli ingredienti freschi e genuini dell'alpina pasticceria di Luserna E abbiamo poi i dulcis in fundo, un prodotto che supera veramente l'eccezionalità Ed è il Rucke L'Acento che ha vinto il premio come miglior vino rosso italiano Bene, ottimi vini, ottimo cibo, allora non ci resta che andare Andiamo Buon appetito Buon appetito Buon appetito